le storie di paura di mascia ciao amici sapete una cosa? tante persone dicono che i mostri esistono e che sono esseri assolutamente spaventosi che terrorizzano tutti ma volete sapere tutto? la verità è che nessuno ha mai visto un mostro in vita sua dovete credermi amici, nemmeno uno tranne un ragazzino ora vi racconto la sua storia c'era una volta in un luogo abbandonato da tutti una fabbrica di trattori un giorno un bambino mentre stava giocando perso una ruota del suo piccolo trattore così pensò che forse ne avrebbe trovato una in quella fabbrica e un pomeriggio senza dire niente a nessuno uscì quattroquattro per andare a cercarla il bambino si arrampicò sul muretto e si trovò proprio di fronte alla fabbrica tutto era cadente e abbandonato e le finestre avevano i vetri rotti anche i lampioni della strada erano spenti solo da una piccolissima finestra sulla torre più alta filtrava un po' di luce il bambino salì le scale della torre e arrivò fino in cima ad un tavolino di fronte ad uno specchio se ne stava tranquillamente seduto un mostro bruttissimo che si stava pettinando era completamente ricoperto di peli si guardava allo specchio sorridendo e tentava di mettersi il rossetto con un rullo da imbianchino insomma un vero orrore al bambino venne il singhiozzo per la paura e nel silenzio fece un singhiozzo così forte che il mostro sobalzò per lo spavento il rullo gli finì in bocca e lo inghiottì terrorizzato il piccolo corse giù dalle scale inciampò, fece i gradini a rozzoloni finì in un tubo finché alla fine atterrò in una cantina si guardò intorno e disse mamma mia che paura c'erano due mostri seduti uno di fronte all'altro uno con la testa di pesce e l'altro con le corna c'era anche un uomo con la tuta da operaio in mezzo una bobina per i cavi elettrici che usavano come travolino per giocare addomino tutte e tre avevano in mano delle carte e le giocavano attorno sbattendole forte sul tavolo all'improvviso uno dei due mostri quello con le scaglie la testa di pesce e la coda di scorpione gridò buttò giù l'ultima carta si sfregò le zampe soddisfatte e disse ho vinto! poi all'improvviso il secondo mostro con sei zampe e le carna rise in modo spaventoso e al bimbo vennero i brividi lungo la schiena come se si trovasse fuori in pieno inverno era uno spettacolo orribile i due mostri sollevarono l'uomo con la tuta e come per gioco cominciarono a fargli toc toc sulla fronte il bambino impaurito corse fuori e si ritrovò in una specie di laboratorio era un'enorme stanza scura e silenziosa il silenzio era spezzato solo da uno strano rumore proveniente dal fondo della stanza dove si ergeva un trono ricoperto di teschi e sul trono c'era una tartaruga con una specie di corona come se fosse un re che si pavoneggiava roteando la sua spada laser il re vide il bambino e si arrabbiò così tanto che il suo brutto muso divenne ancora più brutto poi improvvisamente si accesero le luci e si sentì qualcuno gridare stop! 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 insomma cosa ci fa questo bambino davanti alla nostra telecamera? ma divanna vieni qui sì parlo con te ma chi l'ha fatta entrare? non posso girare in queste condizioni cinque minuti di pausa una piattaforma con la telecamera callò dall'alto il re spense la spada e la gettò via dicendo cosa un'altra pausa? così non finiremo mai questo film avete capito bene stavano girando un film e il bambino aveva rovinato le riprese l'uomo con la tuta lo accompagnò fuori dal cancello quindi tutti i mostri erano attori non erano mostri veri stavano solo recitando non c'era nessun motivo di aver paura insomma miei cari amici tutti quei mostri che si leggono nei libri e si vedono nei film non sono assolutamente reali sono tutti finti sono pura fantasia ma se siete interessati a vedere un mostro vero vi basterà guardare una mosca attraverso una lente di ingrandimento come questa ciao 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 amici avete mai avuto paura di perdervi un giorno da qualche parte? io sì spesso ho paura di perdermi e una volta infatti mi sono persa per davvero non trovavo più la strada un vero guaio ma poi un bel giorno ho sentito la storia di un gattino c'era una volta un gattino che viveva in casa era un gattino come tanti non aveva niente di speciale tranne un particolare ogni volta che usciva di casa si perdeva si andava per la strada per incorrere una palla per fare una corsetta dopo pochi minuti non ricordava più da dove fosse venuto una volta si nascose sotto una panchina e se ne restò lì fermo spaventato tutto ciò che aveva intorno gli era sconosciuto quanto avrebbe voluto essere a casa con la sua padroncina? stava diventando buio le luci dei palazzi si stavano accendendo e il gattino vedeva passare davanti a sé una serie infinita di cani non avrebbe mai osato chiedere aiuto a loro e comunque gli era indifferente se vedeva passare un gatto o un cane era così piccolo che nessuno lo vedeva il tempo passava ormai era notte fonda e il gattino era affamato ma non c'era nulla da mangiare aveva così tanta fame che avrebbe mangiato qualunque cosa ma dentro quella scatola non c'era nulla nemmeno una briciolina di pane il gattino era triste e rassegnato ma tutto in un tratto vide scendere dal cielo un grande uccello oi oi cos'è quello? non sarà un'aquila? il gattino impaurito si riparò in un angolo tutto tremante povero me ora sono fritto pensò appena atterrato l'uccello gli disse ciao gattino io sono un piccione postino come va? si può sapere perché stai piangendo? ti va di mangiare un panino? perché sei qui? non c'è nessuno con te non mi direi che sei solo soletto? il gattino annui mi sono perso signor piccione rispose e tutto contento si mise subito a mangiare il panino con grande appetito il piccione lo osservò pensieroso poi gli chiese dimmi sai qual è l'indirizzo di casa tua gattino? il gattino ci pensò su un po' ma non ricordava il nome della via certo che sarebbe stato meglio se l'avessi scritto sulla coda quando hai un indirizzo è più facile io sono un piccione viaggiatore uccelli come me non si perdono mai e tornano sempre a casa in qualsiasi posto si trovino beato te piccione ma io non sono un gattino viaggiatore non sono bravo come te nel trovare le strade se ti sei perso e non sai più tornare a casa non devi girare a vuoto inutilmente avvicina qualcuno senza essere timido chiedi aiuto e descrivi la persona dalla quale stai cercando di tornare ah ah gridò felice il gattino allora è facile la mia padroncina ha le lentigine e il nasino all'insù ama i dolci e le sue tasche sono sempre piene di cartine di caramelle ha i capelli dritti, lisci e rossi con due fiocchetti in testa ha un nome bellissimo Masha a quel punto il piccione vola via e il gattino smarrito torna a nascondersi povero gattino era di nuovo tutto solo questa volta non ritornerò più a casa pensò ma ecco che all'improvviso si sentì un grido Timmy qualcuno lo afferrò e lo lanciò in aria e gli mise sotto al naso una ciotola di latte coraggio bevi piccolino il gattino era felicissimo la sua padroncina lo prendeva in braccio lo accarezzava e lo coccolava poi gli disse sei sporco e arruffato e hai la coda piena di erbacce sai Timmy tu non hai l'indirizzo scritto sulla coda ma sul collare ringrazia il piccione ti è venuto a dirmi dov'eri finito tieni ecco una caramella tutta per te caro piccione tu non sai quanto coscio in giro per trovarti all'improvviso Masha si accorse che il gattino si era addormentato è proprio così che è andata miei cari amici quindi se vi perdete ricordate niente panico imparate bene l'indirizzo di casa vostra il numero di telefono e non abbiate timore di chiedere a qualcuno di aiutarvi avete capito? vincete la paura non allarmatevi se vi perdete chiedete aiuto certe persone hanno strane paure proprio come nella storia che sto per raccontarvi c'era una volta un bambino su un autobus di fronte a lui c'era una vecchietta che parlava e parlava disse anche che se qualcuno fosse andato a nuotare oltre le boi laggiù dove era vietato sarebbe di sicuro annegato e nessuno avrebbe potuto aiutarlo il bambino fu così impressionato che da quel giorno iniziò a temere l'acqua come la peste l'estate il bambino andò a trascorrere le vacanze in campeggio ma quando gli altri bambini andavano a nuotare lui se ne stava seduto sul molo a fissare l'acqua profonda guardò e guardò così a lungo e così intensamente che iniziò a credere di vedere qualcuno sott'acqua che a sua volta lo stava fissando si convinse che la prima volta che fosse andato a nuotare quella creatura nell'acqua l'avrebbe afferrato per i piedi e l'avrebbe trascinato sul fondo per sempre una cosa spaventosa per farla breve il bambino spaventato decise che l'acqua era troppo pericolosa e la mattina smise di lavarsi la faccia poi non volle più nemmeno lavarsi le mani prima di andare a mangiare e alla fine stabilì il record di quel campeggio non si lavò per quasi tutte le vacanze estive se voi sapesse come diventano del tutto irriconoscibili i bambini quando per qualche ragione smettono di lavarsi per bene dopo qualche tempo il bambino notò che intorno a lui tutti si comportavano in modo strano gli altri bambini non solo lo fissavano ma scappavano spaventati anche i grandi fuggivano solo il prodo allenatore non scappò ma si nascose dietro ad alcuni attrezzi che ingenuo pensava che il bambino non l'avrebbe trovato lì dietro figuriamoci come poteva non vederlo grande e grosso com'era ti ho visto, ti ho visto, ti ho trovato questo voleva dire il bambino ma al posto della sua voce uscì l'allenatore strillò spaventatissimo oh povero me, salvatemi è entrato un porcellino in polestro era vero poiché il bambino non si era più lavato era diventato uno strano porcellino eh sì purtroppo un porcellino non può stare nello stesso campeggio con gli altri bambini perciò il bambino porcello fu costretto a stare insieme agli altri animali e finalmente capì che doveva smettere di avere paura dell'acqua se non voleva passare tutto il tempo a mangiare strani avanzi come le bucce di cocomero doveva vincere la sua paura perciò chiuso gli occhi prese la rincorsa e saltò in acqua senza esitazione sorpreso si accorse che non succedeva niente di terribile allora tutto felice corse verso i lavandini mise la testa direttamente sotto l'acqua e finalmente invece del grugno del porcellino vide nello specchio il suo bel naso da bambino allora prese il sapone e iniziò a insaponare anche gli zoccoli da porcellino e meraviglia ecco di nuovo le sue mani il bambino cominciò a nuotare ogni giorno a lavarsi la faccia spazzolarsi i denti e stregliarsi sotto la doccia e quando il campeggio terminò la sua trasformazione in un bambino senza paura fu completa riuscì perfino a vincere una gara di nuoto quando la mamma arrivò al campeggio era contentissima abbracciò il bambino e gli diede un bel bacio sul naso allora avete capito amici miei non abbiate paura dell'acqua nuotare fa bene a tutti ma non allontanatevi troppo dalla riva ciao amici voi avete paura del buio? o non ne avete neanche un po' una volta mi spaventavo così tanto entrare nella mia stanza che ogni sera prima di andare a letto portavo sempre con me una torcia elettrica però poi un bel giorno ho ascoltato una fiaba che parlava di una piccola pulce che aveva paura del buio è una storia molto interessante e ora ve la racconto tanto tempo fa in una grande foresta viveva una piccola pulce era una pulce esattamente come tante altre e anche la foresta in cui viveva non era poi così diversa da mille altre foreste ma quando scendeva la notte gli alberi sembravano sempre più scuri e minacciosi e la povera piccola pulce tremava di paura una notte mentre se ne stava sola sotto una foglia tutta tremante la pulce vide tantissimi brutti mostri ce n'era uno con le zanne lunghe lunghe e la bocca grande come un forno e ce n'era un altro con le zampacce e gli artigli pronti ad afferrarla e più la notte diventava scura più gli artigli crescevano e tutte le ombre si allungavano sempre di più alla fine la pulce cominciò a gridare con quanto fiato aveva in gola basta basta ho paura aiuto aiuto per favore accendete la luce a quel grido tutti gli animali del bosco si svegliarono spaventati non capivano cosa stesse succedendo e scapparono in tutte le direzioni la piccola pulce vide le ombre degli animali che fuggivano nel bosco e gridò ancora più forte aiuto aiutatemi vi prego tutto quel baccano finì per disturbare il sonno di una fatina del bosco il giorno dopo come al solito la fatina andò a scuola di incantesimi ma era così assonnata che si addormentò durante la lezione invece di stare attenta tutti sanno che chi si addormenta in classe finisce per prendere dei brutti voti perciò la fatina decise che era arrivato il momento di smetterla con quel chiasso così vola nell'oscurità finché incontrò la pulce le disse cara pulce perché urli così tanto? fai troppo rumore e nessuno riesce più a dormire le tue grida fanno scappare tutti gli animali sai? cosa ma da chi scappano? chiese la pulce scappano da te piccola pulce sei tu che li spaventi ma io non voglio spaventarli io sono piccola e ho tanta paura ah sì io invece non ho paura rispose la fatina come vedi anch'io sono piccola sì questo è vero piagnucola la pulce ma tu hai la tua bellissima lanterna fatina ecco perché non hai paura di nulla la fatina sospirò sì forse hai ragione userò la mia formula magica per darti una luce nuvole biscotto istrice uno spazzola pesce spugnetta due formaggio pomodoro cristalli tre abracadabra con questa magia che la luce sia oh che meraviglia la pulce si ritrovò una lucetta sulla coda invece di una lanterna ops ecco cosa succede quando si si addormenta a scuola pensa la fatina la piccola pulce inizia a ridere perché guardando bene il mostro con le lunghezza nella bocca grande come un forno tutto ad un tratto era diventato un ceppo secco e il mostro con gli artigli spaventosi una volta illuminato si riberò un ginepro con i suoi lunghi rami così la piccola pulce con la coda luminosa capì che non c'era nulla di cui aver paura da quel momento ogni notte la piccola pulce accende la sua coda vola qua e là fino al mattino e poi si addormenta tranquilla e la fatina del bosco prima di chiudere gli occhi guarda e sorride alla piccola lucciola che come una stellina vola felice di ramo in ramo cari amici se nel buio vi sembra di vedere qualcosa guardate bene prima di spaventarvi e voglio darvi un consiglio è più facile imparare dopo una bella notte di sonno la luce della conoscenza non si spegne mai buonanotte grazie a tutti